Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dei risvolti legali della ordinanza del presidente Marsilio che ha riportato l'Abruzzo in zona arancione perché si terrà domani nel primo pomeriggio in via telematica l'udienza innanzi il Tar Abruzzo all'Aquila sul ricorso presentato dal governo rispetto all'ordinanza della regione Abruzzo. L'Abruzzo in caso di decisione favorevole al governo potrebbe dunque tornare in zona rossa nel weekend. Sentiamo Jacopo Forcella. L'Abruzzo potrebbe tornare in zona rossa se il Tar dell'Aquila dovesse decidere domani per l'accoglimento del ricorso presentato dal governo contro l'ordinanza del presidente Marsilio che ha riportato motu proprio l'Abruzzo in zona arancione prima del pronunciamento della cabina di regia prevista per domani. La regione tornerebbe in zona rossa per due giorni fino a lunedì perché è praticamente certo che dall'osservatorio nazionale arrivi il via libera al provvedimento del ministro della salute e speranza per la zona arancione da lunedì. L'udienza al Tar è prevista domani nel primo pomeriggio in via telematica. Il presidente del Tar Umberto Re Alfonso avrebbe così deciso di non tener conto della iniziale richiesta di prendere una decisione inaudita altera parte, ossia senza ascoltare la regione, avendo deciso di prendere in esame le varie posizioni. A questo va aggiunto che non è detto che in quella sede il Tar si pronunci solo per una sospensiva dell'ordinanza ma potrebbe anche entrare nel merito. Qualora venisse confermato quello che il governo ha scritto nel ricorso e cioè che l'Abruzzo dal 27 novembre ha presentato dati sui contagi più positivi e quindi dopo 14 giorni, scadenza 11 dicembre, sarebbe tornata arancione, Allora la via libera ci sarebbe ma con la operatività che il ministro Speranza sancirebbe per domenica 13. Quindi sarebbe da capire cosa accade in regione. Qualora il Tar dovesse decidere, domani l'Abruzzo tornerebbe in zona rossa per due giorni. Se si dovesse riservare accadrebbe per poche ore o addirittura per nulla se la decisione dovesse arrivare tra domenica sera e lunedì. E con il ritorno della nostra regione in zona arancione anche gli studenti di seconda e terza media delle scuole di Pescara, così come di quasi tutta la regione, sono tornati a fare lezione in presenza. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Con il ritorno dell'Abruzzo in zona arancione sono tornate anche nelle scuole medie di Pescara di seconda e terza media le lezioni in presenza. Assessore Santilli si è ripartiti nella massima tranquillità, ovviamente con una grande attenzione. L'attenzione non deve mai mancare, quindi le regole vanno sempre rispettate. Il famoso distanziamento, il lavaggio delle mani e la mascherina. Ieri con grande soddisfazione da parte dei ragazzi, ma anche da parte dei presidi, siamo tornati a scuola regolarmente. Aspettavamo questo momento perché l'educazione a distanza è vero che è positiva farla, però in presenza è un discorso completamente diverso. Il rapporto tra i ragazzi, tra gli insegnanti con i ragazzi, quindi la scuola è questa. Sto facendo il giro delle scuole in questi giorni con i presidi proprio per sentirli e confrontarmi con loro come abbiamo sempre fatto in questo periodo. Però la situazione l'ho trovata veramente molto, ma molto positiva. Tutto tranquillo, tutto funziona regolarmente. I ragazzi sono molto bravi, rispettano le regole. C'è un po' da parte dei genitori ancora che non riescono a capire che all'esterno della scuola bisogna stare distanti, bisogna mettere le mascherine. Però, ripeto, noi siamo contenti dal comportamento da parte dei ragazzi, che è veramente un segnale molto positivo. Ultimamente, devo dire la verità, ormai sono 15 giorni che non abbiamo più casi nelle nostre scuole. Io non voglio, speriamo che non succeda più, ma questo è un segnale perché? Perché significa che i ragazzi rispettano le regole. Quindi nel momento in cui i ragazzi rispettano le regole, rispettano quel distanziamento, la mascherina, il lavaggio delle mani, tutto funziona per il meglio per tutti. Adesso ci spostiamo a Sulmona, dove il segretario territoriale della Will FPL denuncia la situazione di difficoltà che si continua a vivere in Valle Peligna, tra le problematiche legate all'ospedale e quelle del supercarcere, dove sono aumentati i contagi. Per il segretario Ferretti è mancata la programmazione e i sanitari sono stati lasciati soli a fronteggiare il Covid. Sentiamo il servizio. Mancanza di spazi, una grave carenza di operatori sanitari, contagi in crescita e una gestione che lascia perplessi. La Will torna a denunciare una grave situazione sul territorio di Sulmona e in particolare per il carcere locale. Ad oggi infatti sono oltre 80 i contagiati all'interno del supercarcere, tra detenuti e personale penitenziario. Ma l'emergenza per il segretario territoriale Will FPL era prevedibile e si sarebbe potuto correre ripari molto prima. La situazione, dire drammatica è poco, perché in questo momento diciamo che si stanno affrontando diversi fronti. Abbiamo il fronto del carcere e questa situazione preoccupa, perché la struttura sanitaria non è pronta in questo momento, logisticamente ma anche a livello di personale. Un altro fronte che abbiamo è quello relativo comunque ai pazienti Covid che continuano a aumentare e diciamo che anche la gestione di questi pazienti diventa difficile per mancanza di spazi. Ma abbiamo avuto difficoltà nel reperire medici, infermieri. In questo momento noi abbiamo ospedali sul Mono, ma anche altri ospedali a livello provinciale. Si sono verificati all'interno numerosi focolai che non permettono l'erogazione comunque di un'assistenza a quella che è l'altra tipologia di popolazione e quindi le altre malattie, perché ricordiamoci non abbiamo soltanto i pazienti Covid, ma abbiamo anche altre tipologie di pazienti che in questo momento non hanno un'assistenza adeguata. Bisognava comunque individuare in questi mesi degli spazi dedicati, quindi degli ospedali provinciali deputati a ricevere i pazienti Covid. Ci siamo trovati in questo momento a rincorrere l'emergenza, a rincorrere. Quindi che succedeva? Subentrava un focolaio e automaticamente quel reparto veniva riconvertito in Covid. Quindi rincorrevamo il problema, ma non l'abbiamo programmato, non abbiamo gestito questa emergenza. Il problema è soltanto uno, che in questo momento chi sta affrontando l'emergenza? È il personale sanitario. Questa è la realtà e non possiamo lasciare soli il personale sanitario a frodeggiare un'emergenza che comunque si sapeva che sarebbe arrivata e si è fatto poco a nostro avviso. Portiamo pagina. Antonella Ballone è stata eletta presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, il nuovo ente camerale nato dalla fusione dei due enti di Teramo e L'Aquila. 39 anni, imprenditrice. Antonella Ballone è la prima donna in Abruzzo a rivestire questo ruolo e la più giovane in Italia. Tania Bonnici-Castelli. Antonella Ballone è la nuova presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, l'ente camerale nato dalla fusione delle camere di Teramo e L'Aquila. Eletta all'unanimità, Antonella Ballone è un'imprenditrice nel settore industria, Gruppo Valtur, e sarà alla guida dell'ente fino al 2025. 39 anni, già vicepresidente dell'ente Teramano, è la più giovane presidente di una Camera di Commercio in Italia, prima donna in Abruzzo ad assumere questo incarico e seconda in Italia. Come si troverà ad operare su questo vastissimo territorio? Partiamo subito innanzitutto, abbiamo credo le idee abbastanza chiare, sicuramente se vogliamo la mission che abbiamo è una mission importante perché entriamo in campo in un momento di crisi, se vogliamo, di pandemia e quindi il nostro operato deve essere quello di affiancamento alle imprese, far sentire la nostra presenza con appunto tutto quello che è, le risorse che possiamo mettere in campo. E' appunto un momento delicato, ma credo che la luce è all'orizzonte e noi come ente oggettivamente faremo tutto il possibile e ci metteremo proprio a disposizione fattiva e operativa per il rilancio del territorio. Questa funzione funzionerà? Direi di sì, anche perché è una fusione che rende sinergici due territori importanti, due territori che in qualche modo rappresentano circa il 70% anche del turismo regionale, abbiamo dei numeri importanti anche a livello di industria, di commercio e quindi credo che sarà una vera e propria sinergia quella che possiamo fare e tutto sommato la vedo molto positivamente questo passaggio. A breve il Consiglio della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia tornerà a riunirsi per l'elezione della Giunta Camerale che sarà costituita da 5 membri oltre alla Presidente Ballone. A seguito dell'accorpamento Teramo-L'Aquila, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia opererà su 155 comuni per un totale di oltre 600.000 abitanti con 80.568 imprese iscritte. Il nuovo ente è tra più rappresentativi a livello nazionale per estensione territoriale ed è vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Restiamo in tema proprio del Gran Sasso d'Italia e dei territori caratterizzati purtroppo anche dal sisma e dai sismi perché sono in arrivo più di 88 milioni di euro per la ricostruzione privata in decine di comuni della provincia dell'Aquila, 48 per i comuni appartenenti al cratere e 40 milioni per quelli fuori dal cratere. Il trasferimento dei fondi è stato effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a favore dei piccoli e medi centri abruzzesi ed è di grande rilevanza visto l'ulteriore slancio che permetterà alla ricostruzione privata che potrà essere messa in maniera più decisa. Si tratta, commenta Fabrizio Curcio, a capo del Dipartimento Casa Italia e responsabile della struttura di missione Sisma 2009 di Palazzo Chigi di un altro passo avanti importante nel cammino della ricostruzione privata in atto nel cratere abruzzese ma anche nei comuni che pur non facendo parte del cratere vedono la necessità di miglioramenti e adeguamenti antisismici in gran parte del loro patrimonio abitativo. Si tratta di attenzione, continua Curcio nei confronti di tutte le realtà anche le più piccole del territorio che hanno la possibilità di rilanciarsi e guardare al futuro con fiducia. Il lavoro di coordinamento delle istituzioni preposte alla ricostruzione non si ferma, conclude il responsabile della struttura di missione e prosegue con tappe come quella di oggi che dimostrano l'impegno profuso. Andiamo avanti ora con la cronaca. Sono scattati all'alba da parte dei finanzieri i quattro arresti relativi al fallimento di una società di Milano con sede operativa a Silvi, di fatto gestita da soggetti pescaresi. L'accusa è di bancarotta fraudolenta. I reati sono pesanti, bancarotta fraudolenta e documentale per avere distratto denaro ed altri beni per oltre 300 mila euro connessi alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per 350 mila euro e dagli omessi versamenti di imposte oltre che per reati di falso e di sostituzione di persona. I finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara con l'ausilio dei reparti del Corpo dell'Aquila e di Martina Franca hanno eseguito quattro misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione al fallimento di una società avente sede legale nel capoluogo meneghino ed operativa a Silvi in provincia di Teramo. In relazione a questa vicenda sono finiti agli arresti i quattro abruzzesi, tre residenti in provincia di Pescara ed uno in provincia dell'Aquila ritenuti responsabili a vario titolo del crack della società operante nel settore del commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti in plastica. I finanzieri nel corso delle indagini hanno accertato attraverso una mirata attività investigativa la vera identità di colui che sotto il falso nome risultava essere l'amministratore della società il quale, pluripregiudicato per reati specifici, utilizzando false generalità aveva stipulato numerosi contratti di fornitura di merce, atti notarili e contratti di noleggio di autovetture oltre ad aver proceduto all'attivazione di rapporti bancari e di numerose schede telefoniche. I finanzieri sono stati messi sulla pista giusta da numerose segnalazioni di operazioni finanziarie sospette mediante la ricostruzione di flussi finanziari e le connesse indagini bancarie e patrimoniali, nonché con l'acquisizione di documentazione contabile ed amministrativa che ha fatto emergere le condotte distrattive oltre che gli illeciti di natura fiscale e le falsità in atti. I quattro arrestati, su disposizione del GIP del Tribunale di Milano, Valerio Natale, sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa degli interrogatori di garanzia. Adesso la politica, torniamo a Pescara, un bilancio del comune inadeguato e vecchio per una città che è cambiata e che fa i conti con l'emergenza sanitaria e quanto dicono i consiglieri di centrosinistra nel comune di Pescara che in conferenza stampa hanno spiegato cosa, a loro giudizio, deve essere rivisto e cambiato. Sentiamo. I consiglieri comunali di centrosinistra a Pescara contestano il bilancio dell'amministrazione comunale e soprattutto cosa, secondo voi, non è andato per il verso giusto? Questo è un vecchio bilancio perché non tiene per niente conto del fatto che nel frattempo Pescara è precipitata nella più grave crisi economica e sociale dal dopoguerra. È un bilancio che ripropone i soliti vecchi schemi, non è stato mai confrontato con le parti sociali come loro stessi ci hanno detto, perché noi in quattro giorni abbiamo fatto quattro incontri con i sindacati, le categorie economiche, il volontariato, la cultura, nessuno è stato chiamato a confrontarsi nel complesso del bilancio. Questo è molto grave, tanto che il risultato è un bilancio inadeguato, vecchio che semplicemente ripropone i classici schemi di sempre ma non introduce quella rivoluzione di cui la città ha bisogno a partire dall'economia e da sociale perché siamo precipitati in una crisi molto grave e questa giunta sembra non essere accorta. Dato il momento che stiamo vivendo noi non vogliamo assolutamente speculare sul bilancio che è stato fatto per degli interessi di parte ma vogliamo ottenere il meglio per la cittadinanza e quindi cercare di spostare i fondi del bilancio maggiormente verso le spese che riguardano il sociale, che riguardano le categorie più svantaggiate perché crediamo che in questo momento, in un momento di crisi economica durissima soprattutto per la città di Pescara che ha vissuto a causa del governatore Marsiglio non ce lo dimentichiamo, una zona rossa fino a pochi giorni fa ha necessità di ripresa sotto questo punto di vista. Non posso non sottolineare gli spicci che questo comune sta destinando con questo bilancio alle politiche giovanili sono veramente misure scarse, così come lo sono per la cultura per l'attività di promozione turistica e per il sociale Pescara ha bisogno di rilanciarsi e questo è un bilancio che non guarda avanti ma guarda sicuramente indietro. La revoca del vitalizio per l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco, condannato per la vicenda di Sanitopoli ed oggi gravemente malato, sta sollevando indignazione nel mondo politico con diverse prese di posizioni contro la decisione della presidenza del Senato L'avvocato Cascere, amico di Ottaviano del Turco racconta le condizioni di salute molto precarie dell'ex governatore raccogliendo l'appello della famiglia annunciato di aver chiesto la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella Vediamo il servizio L'ufficio di presidenza del Senato ha revocato il vitalizio all'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco L'ex governatore, oggi gravemente malato, è stato colpito secondo l'avvocato Leonardo Cascere da un atto inumano e per questo l'avvocato ha chiesto al presidente della Repubblica di concedere la grazia all'ex presidente della regione per porre rimedio a quello che considera un atto di crudeltà Ho valutato una situazione drammatica in questo momento perché conosco Ottaviano del Turco da quando ero bambino quindi siamo andati a Collelon Gambe 2 Ottaviano adesso si trova in una condizione tremenda perché è affetto ad Alzheimer, ha un tumore pare che ci abbia anche il Parkinson quindi si trova in una condizione è appeso ad un filo e togliergli anche il vitalizio che gli spettava per reati del 2006 con una norma che poi non è neanche una norma pare che sia una circolare dell'ex presidente del Senato Grasso del 2015 quindi applicare una norma retroattiva a fatti che non erano contemplati nella norma stessa quindi è indegno in un momento come questo è una barbarie come dice giustamente Martelli una barbarie disumana Ricordiamolo, facciamo un passo indietro che anche sul processo ci sono stati parecchi dubbi per l'impianto proprio accusatorio Io sono stato sempre convinto che Ottaviano fosse innocente era una mia convinzione personale non conoscendo gli atti è chiaro che non potevo esprimere un giudizio tecnico però credo che la Cassazione nel momento in cui ha deciso di annullare e rinviare la Corte d'Appello di Perugia nel 2017 per l'associazione delinguele e lì è stato assolto perché il fatto non sussiste è chiaro che tutto il quadro probatorio e tutto il quadro accusatorio ha avuto un tracollo determinante sono rimaste soltanto le induzioni in debite cosa che una valutazione fatta in un certo modo su 24 capi di imputazione sorreggono soltanto 5 beh, qualche difficoltà viene nel vedere qual è la prova effettiva di quello ebbene ha fatto Cagliazza nel momento in cui ha detto che farà una revisione e pare che abbia già attivato la procedura Ottiamo pagina si chiama Nessuno Resti Solo è lo sportello voluto da Camera di Commercio Abbi e Prefettura di Pescara rivolto alle istanze di famiglie ed imprese Nessuno deve essere lasciato solo con questo spirito lo sportello creato da Prefettura di Pescara Camera di Commercio di Chieti Pescara Abbi e Ordini Professionali si prefigge di dare un aiuto professionale di consulenza economico-finanziaria legale e di supporto psicologico a quanti non hanno accesso a consulenze specialistiche dedicate fornendo informazioni e orientamento per inquadrare le situazioni di difficoltà e i fattori determinanti informando anche correttamente su strumenti, procedure e opportunità indirizzando nell'espletamento delle procedure presso gli enti pubblici e gli istituti di credito offrendo anche il primo sostegno psicologico nell'emergenza per affrontare una situazione di crisi creando sinergie con altre realtà che possono offrire supporto Questo progetto nasce da un'idea di sua eccellenza il prefetto di Pescara che poi ha trovato l'appoggio totale della Camera di Commercio di Chiedi Pescara perché è un progetto interessante in un momento così difficile per la società civile e imprenditoriale è uno sportello che ha lo spirito di dare un contributo di consulenze a chi ne dovesse aver bisogno in questo particolare momento l'idea qual è? quella di dare appunto un supporto informativo lo sportello non elargirà risorse ma darà un supporto informativo su diversi aspetti che possono essere utili per i cittadini che si trovano in difficoltà la finalità è quella di prevenire ovviamente fenomeni usurari e comunque distorsivi dell'economia legale nei momenti di difficoltà bisogna fare rete la coesione sociale è la forza che ci può dare una spinta per uscire meglio da questo momento difficile e siamo così arrivati alla pagina dello sport partiamo dal calcio di Serie B dunque dal Pescara l'attaccante Milos Bocic analizza il momento dei Biancazzurri dopo la rigenerante vittoria di Ascoli il serbo si dice pronto a dare il proprio apporto offensivo specie alla luce dei tanti infortuni nel reparto avanzato del Delfino lo ascoltiamo in questo momento posso dire che mi sto allenando sto cercando la mia forma perché sono tornato da un infortunio al flessore e io come calciatore se posso dire faccio molta fatica a rientrare al 100% perciò in questo momento sto lavorando e cercare di aiutare la squadra se ci sarà bisogno e se mi chiamerà il mister in causa da fuori che pescara hai visto da squadra? ho visto una grande squadra molto compatta che aveva fiducia in uno nell'altro una squadra organizzata con una cattiveria che credo non abbiamo mai avuto in queste ultime partite stai recuperando la miglior condizione prima di qualche problema fisico eri stato impiegato da Otto come attaccante centrale però il tuo ruolo è soprattutto quello di esterno e in quel ruolo che riesci ad esprimerti meglio è così sicuramente il mio ruolo sarebbe l'esterno ma se il mister mi dovesse chiamare in causa a giocare a centroavanti lo faccio con piacere perché il mio compito è aiutare la squadra considerando anche l'infortunio di Asensio quando rientrerai insomma sarà importante anche il tuo apporto considerando che ci sono Seter e oltre a Belloni da punta centrale sicuramente in questo momento abbiamo avuto una grande perda perché Asensio è un grande giocatore ma dobbiamo andare avanti continuare aspettare il suo recupero perché sicuramente quando tornerà farà vedere che giocatore è da Massimo Oddo al nuovo allenatore Roberto Breda quali cambiamenti secondo te anche com'è il clima nello spogliatore rispetto a qualche settimana fa sicuramente quando si vince una partita il clima è già più tranquillo sereno però in questo momento dobbiamo pensare ad allenarci come stiamo già facendo ogni giorno al 100% e pensare che sabato giochiamo una grande partita Scendiamo in Serie C due reti è una grande prestazione contro la Vibonese il centrocampista portoghese del Teramo Costa Ferreira cancella le critiche che gli erano piovute addosso dopo Terni e cariche suoi in vista della trasferta di domenica sul campo della Turris con la Vibonese abbiamo fatto una grossa partita creato tanto tanto volume di gioco col Francavilla la stessa cosa con la Ternana ce la siamo giocata poi è andata come è andata però comunque creiamo sempre tante occasioni rispetto a magari partite dove tu hai vinto con Monopoli o Catania dove non sei stato brillante hai fatto due tiri due gol col Monopoli col Catania hai fatto il primo tiro il primo gol quindi sono gli episodi alla fine che poi ti sblocano la partita quindi a livello di prestazione preferisco giocare come ho giocato col Francavilla o con la Vibonese che poi sicuramente è un punto di partenza per il futuro a me piace parlare a parlare con i miei compagni aiutarli perché comunque ho avuto sempre tanti allenatori tanti compagni che hanno fatto carriera e quindi cerco di prendere il meglio di ognuno di loro e cercare di mettere magari un po' la mia esperienza quello che ho vissuto aiutare i miei compagni per non ripetere magari gli errori che ho fatto io quando ero piccolo quindi sicuramente l'assist di Francavilla sono cose che gli dico sempre magari quando arrivi sul fondo di mettere la palla dietro non buttarla in aria tutte piccolezze che poi loro vedono che funziona e giustamente poi vengono da me a ringraziarmi con l'ottimo inizio sia personale che di squadra che abbiamo avuto che ho criticato in questo momento la stagione mi sembrava un po' o strano però ecco l'unico a cui devo rispondere è al mister e ai miei compagni quindi non mi sono sentito mai sotto attacco da nessuna parte anche perché comunque non leggo i social non leggo i giornali quindi cerco di stare nel mio ambiente con la mia famiglia tranquillo quindi le parole se le porto via il vento poi le prestazioni le devo fare per me stesso per la squadra per il mister perché ogni domenica voglio scendere in campo da titolare e quindi devo dare il massimo tra i due gol molti preferiscono stilisticamente il secondo io preferisco di gran lunga il primo perché secondo me è molto più difficile a Pedro Costa Ferreira che l'hai realizzati tutti e due quale piace di più? mi piace di più il secondo anche se il primo è stato nettamente più difficile perché la palla arrivava veramente da altissima quindi è stato difficile sia coordinarmi che comunque avevo i difensori il portiere non riusciva a vedere bene la palla che era talmente tanto alta che scendeva diciamo che il secondo è stato più facile anche se è stato più bello episodi come il gol di Francavilla il gol sul calcio d'angolo sono quei dettagli che magari inizio stagione noi stavamo attenti dove tu davi il 100% di concentrazione ecco ora magari ci siamo abbiamo abbassato un attimino il livello di concentrazione e ci manca ancora quello step come dicevo prima anche a partì già di domenica l'alzare l'asticella della concentrazione curare quel piccolo dettaglio che poi alla fine ci ha portato a pareggiare con la Bibonese tutti questi questi passi bisogna farli gradualmente quindi il mister parla sempre di questo processo di crescita che ci sarà adesso non sappiamo quando ci sarà tra una, due, tre settimane un mese sarà lungo però ci dovremo arrivare il TG6 termina qui io vi ringrazio per averci seguito il prossimo aggiornamento come sempre è alle ore 19 da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti